Forse il vero significato dell'8 marzo. Insieme a pranzo ieri al ristorante Las Vegas, tutte le donne ospiti presso le case di riposo del Val d'Arno, Terra Nuova, Montevarchi, San Giovanni, Bucine e Castelfranco. Insieme a loro gli ho animatori come gruppo unico, con le cooperative L1 e Coenè per far passare davvero una domenica diversa alle signore e non solo a loro. Festeggiare insieme a tutte le donne ospiti delle case di riposo del Val d'Arno la festa della donna e questo è il significato più importante. Ma poi anche quello di far stare insieme le ospite delle varie case di riposo in una organizzazione che è stata condivisa e concordata da tutte le animatrici dell'RSA. Appunto per questo è nata la ricorrenza dell'8 marzo. Secondo me festeggiare con le nostre anziane dei nostri paesi è veramente festeggiare tutto il loro lavoro, il loro vissuto, la tradizione, la cultura dei nostri paesi. Appuntamento gradito ormai da tanti anni e non è la sola iniziativa nel corso dell'anno, vi sono dei momenti di incontro e di integrazione tra le varie strutture per anziani. Ovviamente poi per tutte le donne l'importante è che l'8 marzo in questo senso arrivi tutto l'anno.